Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Pierre Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin Secondo i bene informati, il figlio del cavaliere e la conduttrice di Canale 5 avrebbero assunto un'importante decisione. Il rumor, di fatti al momento non è che un'indiscrezione, arriva dal settimanale vero, nell'ultimo numero in edicola. Scopriamo insieme di cosa si tratta. La conduttrice di Verissimo e il numero 1 di Mediaset stanno assieme da diversi anni. La coppia ha due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Il settimanale vero ha pochi dubbi. Il matrimonio ci sarà, anche se al momento non c'è alcuna data all'orizzonte. Pierre Silvio e Silvia, no al trash del GF VIP, sia al nostro matrimonio, è il titolo dell'ultimo numero del magazine. L'allusione ovviamente allo sfogo durissimo di Berlusconi che ha voluto prendere dei seri provvedimenti per la brutta piega che stava prendendo il reality condotto da Alfonso Signorini. Quindi una bellissima notizia per i fan della coppia, che li vedranno presto diventare marito e moglie.